Non tutti possono vantare una storia d'impresa lunga più di un secolo e questo per noi è stato un ulteriore stimolo a voler realizzare qualcosa di straordinario per il nostro progetto. Fin dalla nostra prima vista in Dompea siamo rimasti affascinati dal loro museo d'impresa appena realizzato ed è stato amore a prima vista scoprendo nelle sale il loro brand magazine storico Bellezza d'Italia. Sfogliandolo abbiamo intuito come una rivisitazione di questa rivista sarebbe stata una scelta strategica sotto diversi aspetti. Da un lato è coerente con il processo di valorizzazione della brand Heritage avviato recentemente da Dompea, dall'altro è un modo semplice e efficace per aumentare la brand awareness di un'azienda farmaceutica così come Norato e Franco Dompea avevano scoperto anni fa. Abbiamo quindi ideato un nuovo concept di brand magazine che fosse in linea con i tempi odierni e la realtà attuale di Dompea. Siamo intervenuti sul naming cambiando bellezza d'Italia in Vision Eye Magazine, un nome che si connette sia alla visione d'impresa ad avanguardia che ha sempre caratterizzato Dompea, sia al nuovo focus della rivista, l'innovazione. Vision Eye Magazine propone una panoramica globale sulla scena internazionale dell'innovazione intesa da ampio spettro, rimanendo coerente alla volontà della sua antenata di essere una compagna per il tempo libero e non un approfondimento tecnico-scientifico. Il restyling grafico richiama, attraverso l'uso del bianco e nero, la suggestione classica di bellezza d'Italia, diventando tuttavia contemporaneo grazie all'interazione con il rosso caratteristico dell'identità visuale di Dompea. Vision Eye Magazine, inoltre, celebra la nuova frontiera dell'esperienza di lettura, prevedendo una sinergia tra supporto cartaceo e realtà digitale. Ogni sezione della rivista, infatti, è dotata di un'area dove, attraverso l'uso dell'app Arti Vive, si attivano interazioni dinamiche digitali, creando nuovi mezzi espressivi di comunicazione e attribuendo valori nuovi a ogni contenuto. E parlando di valori, Vision Eye Magazine, così come fece bellezza d'Italia, racconta al mondo la visione d'impresa di Dompea in modo elegante e non invasivo. Mentre noi, nell'ideare Vision Eye Magazine, abbiamo scelto di far lavorare in modo integrato diversi mezzi di comunicazione, design editoriale, corporate design, copywriting, fotografia, modellazione 3D e video. L'abbiamo fatto ispirandoci all'eclettismo di Leonardo e al genio creativo che questo contest vuole celebrare. Grazie per la vostra attenzione.